Capi predati, cani e animali domestici divorati. La presenza del lupo sulle montagne Veneti si fa sempre più pesante per chi in montagna vive e lavora. Il grido di dolore si leva dall'altopiano dei sette comuni e dalle altre zone colpite dai selvatici, ma lo spazio di manovra per le istituzioni è davvero minimo. Il lupo non si può abbattere, non è una specie cacciabile, ma è una specie protetta da normativa europea e nazionale. Noi abbiamo chiesto più volte al Ministero, attraverso il piano gestione nazionale del lupo, di arrivare ad avere delle misure più impattanti, come fanno in altri paesi europei del resto. Purtroppo ad oggi la posizione del Ministero è di totale chiusura alla possibilità di intervenire anche con abbattimenti di soggetti confidenti. La presenza dei selvatici destra grande preoccupazione, non solo per il settore dell'allevamento, ma ora anche per il comparto turistico. La presenza del lupo sta destando sempre maggiore preoccupazione nella zona delle nostre Alpi e Prealpi e si sta diffondendo, generando dei danni notevoli all'allevamento in particolare. Secondo le ultime stime ci sono almeno 100 lupi in Veneto, dove sono in corso alcune azioni di controllo della popolazione. In ballo, oltre a un progetto dell'Università di Sassari, anche l'utilizzo di radiocollari, incentivi per l'acquisto di recinti e naturalmente il ristoro dei danni subiti dagli allevatori. C'è pure la possibilità di utilizzare proiettili non letali. Arrivare all'allontanamento con pallettoni di gomma che spaventano l'animale senza ucciderlo. La regione farà comunque pressione per l'adozione di un nuovo piano di gestione del lupo che tenga conto dell'attuale situazione. La realtà è che in altri paesi usano mezzi ben più drastici e che la popolazione del lupo non è più rischio di estinzione come la normativa lascia presuppore, bensì oggi la situazione è cambiata, è una popolazione in forte espansione e che si sposta molto velocemente e che quindi occorrono misure molto più drastiche.